Ancora pochi giorni per aderire a questa proposta che è formativa per i giovani, il servizio civile presso Cometa. Allora vogliamo sapere qualche aspetto tecnico di questo momento formativo importante. Sì, il prossimo 26 gennaio scade alle ore 14 il bando per il servizio civile presso Cometa. I posti a disposizione sono 36, l'età a cui si può accedere dai 18 ai 28 anni compresi. Non c'è limite per quanto riguarda i titoli di studio o per avere particolari requisiti. Le sedi sono 4 nelle varie situazioni comunitarie o diurne o residenziali del consorzio Cometa e sono suddivise in una media di 9-10 posti per struttura che abbiamo. C'è una retribuzione, quindi il servizio non è gratuito, c'è l'idea, il valore del volontariato, però c'è anche una retribuzione economica. In più l'impegno non è elevato, sono 25 ore settimanali per un anno solare. Per fare domanda bisogna accedere al sito del servizio civile e c'è un apposito link domanda per il servizio civile. Cometa mette a disposizione questi 40 posti in 4 luoghi diversi. Quali sono le mansioni che vengono richieste? Che cosa faranno i giovani quando saranno lì da voi? I giovani fanno un periodo di formazione, c'è tanta formazione di ordine psicologico, pedagogico, sociale, anche legislativo, normativo su quello che è il servizio civile. Da noi aiutano gli operatori, aiutano gli ospiti che abbiamo nelle strutture, fanno affiancamento, fanno segreteria a volte, accompagnamenti, fanno a volte gli autisti in certe situazioni. Fanno tutte quelle mansioni che veramente sono di grande ausilio agli operatori che sono nelle strutture. Un momento significativo dal punto di vista formativo ma anche dal punto di vista umano. Un'esperienza che si è consolidata ormai nel tempo. Quali sono i risultati di questo lavoro che fate insieme ai giovani? Noi attualmente abbiamo otto persone in servizio civile, quattro per ogni sede. L'esperienza qual è? Ma è importante, è una crescita personale. Ancora ad oggi, tuttora, io interlosquisco con ragazze che sono state da noi, che hanno fatto il servizio civile. Mi vengono a chiedere di poter salire in comunità, di poter rivedere gli operatori, rivedere anche le ragazze. Le mansioni sono quelle che ha detto Fausto e nella comunità arcobaleno, che ha la particolarità di avere i bimbi, sono anche di aiuto nella gestione dei piccoli.